Ma guardi, su questo posso dirle che la parola ufficiale c'è stata e c'è tuttora, che è quella del Ministero della Salute e dei tecnici di cui si avvale il Ministero della Salute. Poi però è vero quello che dice Briatore, che noi in televisione in questi mesi abbiamo sentito più esperti che hanno portato il loro punto di vista e questo è vero che tante volte ha generato confusione nei cittadini. Però penso che adesso dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare al fatto che speriamo finalmente questa pandemia, perlomeno nelle forme in cui l'abbiamo conosciuta fino a qui, ci abbandoni. Me lo faccio però dire, Mirta, lei ha detto bene, se siamo arrivati in questa situazione è perché, e lo ribadisco, c'è stata responsabilità da parte di chi ha governato e di chi ha gestito il problema. Cioè se avessimo ceduto alla propaganda di chi chiedeva di ignorare i dati scientifici, noi oggi saremmo in tutt'altra situazione. Quindi bene così, bene che adesso si possa anche addirittura provare a anticipare l'abrogazione del coprifuoco quando le regioni entreranno in zona bianca, come mi pare sia stato deciso ieri dalla conferenza delle regioni. E quindi insomma ci avviamo verso una graduale normalità. E quello che mi auguro è che sia una normalità irreversibile, cioè che non si torni più indietro. Non vai più a richiudere. Allora, sentiamo...